buonasera a tutti io sono paolo biancore sono docente del dipartimento di management vi do il benvenuto a questa serata di presentazione del testo lavorare non basta della professoressa marianna filandri discuteranno insieme a me il professor maurizio ferrares e il dottor giorgio airaudo lavorare non basta il titolo ci fa capire che il lavoro è un elemento importante è importante lo prescrive anche la nostra costituzione ma probabilmente non basta per soddisfare una vita piena e magari non basta perché non dà una remunerazione adeguata e quindi siamo di fronte a una platea variegata tra cui vedo tanti giovani e allora dobbiamo un po' capire intanto i principi ispiratori di questo tuo testo e soprattutto perché non basta sì grazie allora come hai detto il lavoro è un po' al centro del benessere delle nostre società sia a livello individuale quindi il lavoro del singolo il nostro lavoro chi è occupato e occupato bene a un livello di benessere e poi però è anche al centro del benessere collettivo quindi una società di piena occupazione dove tutti sono occupati è una società dove si sta bene si vive bene e quindi il lavoro gode di una grande centralità nelle politiche nel dibattito quindi noi diamo grande rilievo al lavoro anche a livello individuale nei nostri nelle nostre relazioni molto spesso chiediamo alle persone quando le conosciamo che lavoro fai raccontiamo di noi con la nostra professione quindi ci identifichiamo e identifichiamo gli altri li ordiniamo anche sulla base della nostra professione il libro però si intitola appunto lavorare non basta perché la tesi che sostengo è che bisogna avere alcune cautele nel dare tutta questa centralità al lavoro io ne propongo tre che vi accenno molto brevemente la prima è che in realtà non tutti lavorano quindi quando noi diciamo che lavoro fai diamo per scontato che si lavori ma a volte qualcuno non lavora e quando anche lavora non è detto che questo lavoro sia una fonte di benessere su questo pensiamo all'espressione working poor o in work poverty che sono sempre più diffuse che cosa sono sono espressioni che identificano la povertà da lavoro cioè soggetti che pur lavorando si trovano a vivere in povertà quindi il lavoro non è necessariamente un elemento che mi garantisce di non essere povero e questo è un fenomeno molto rilevante nel nostro paese considerate che oggi il 12 per cento dei lavoratori è un lavoratore povero quindi più di uno ogni dieci e questa è la prima cautela la seconda cautela ha a che fare con un elemento un po soggettivo che è quello della stabilità del lavoro della sicurezza del lavoro perché è importante questo elemento perché è un elemento legato al benessere io sono un lavoratore che sta bene quando il mio lavoro è stabile quando io posso contare su una prospettiva di lungo periodo quindi conosco il posto dove vado a lavorare so che questo posto è un posto relativamente sicuro e quindi non sono preoccupato di cosa capiterà nell'immediato vabbè è un problema individuale si potrebbe pensare no è un problema collettivo per vari per varie ragioni ne cito una poi eventualmente ci possiamo tornare se io ho una posizione di lavoro instabile precaria tenderò a non consumare perché perché le persone tendono a essere avverse al rischio a preoccuparsi del futuro e quindi se non sono sicure della loro continuità lavorativa consumeranno meno e questo è un costo per tutti un problema per tutta la collettività la seconda scusate la terza cautela che propongo è quella relativa al fatto che il lavoro sia la condizione sulla base della quale si garantisce il benessere dell'individuo a partire dalla propria posizione quindi noi pensiamo a tutto la narrativa del studia dati da fare impegnati avrai un buon lavoro e vivrai molto bene in realtà molto più del lavoro conta la ricchezza la ricchezza che cos'è è il patrimonio di cui noi disponiamo e la maggior parte del patrimonio di cui noi disponiamo è dato da eredità e donazioni solo una parte più minoritaria è data da risparmi dovuti alla nostra attività lavorativa certo questa c'è ma è soprattutto più elevata per coloro che già hanno eredità e donazioni però questo è un problema rilevante ed è un problema non solo per il singolo che può accedere a certe condizioni di vita migliori se dispone di ricchezza rispetto che sia solo un reddito da lavoro ma anche per quelli che sono i livelli di disuguaglianza dove viviamo e su questo un dato importante è quello della fiscalità nel nostro nel nostro paese voi pensate che oggi l'attività lavorativa quindi il fatto che io ogni mattina mi alzi mi recchi in un posto di lavoro mi impegni poi guadagno un salario è tassata oltre al 40 per cento i miei patrimoni e le rendite dei miei patrimoni pensate a una seconda casa una terza casa che io affitto e su cui percepisco un reddito che è il mio reddito dal patrimonio si chiama rendita è tassata meno della metà meno della metà questo ha dei costi per tutta la collettività soprattutto perché è l'elemento con il quale si riproducono le disuguaglianze da una generazione all'altra quindi queste tre cautele messe insieme ci fanno pensare che lavorare non basta e che tutta la centralità che noi diamo oggi al lavoro è una centralità che deve essere quantomeno messa in discussione sulle componenti che la sostengono ecco diamo la parola alla filosofia al professore di filosofia che è già più vicino al punto ecco si è professore di filosofia la questione che stavo pensando adesso effettivamente si può dire quello che diceva croce della sociologia che dice c'è questa roba eccetera ma non si preoccupi poi cade e la stessa cosa non si può dire del lavoro adesso nel senso che è vero che lavorare non basta ma l'altra buona notizia che tra 200 anni nessuno lavorerà perché non sarà più necessario che gli esseri umani lavorino ed è una grandissima cosa perché gli esseri umani saranno tutti quanti sostituiti dalle macchine in veste di produttori di servizi e produttori di beni ma non potranno essere sostituiti da nessuna macchina in veste di consumatori perché io posso fare una macchina per fabbricare la pizza posso fare una macchina per distribuire la pizza ma non posso fare una macchina per mangiare la pizza quello è fatale deve esserci il soggetto fisico che mangia la pizza e questo è il punto su cui si baserà la salvezza delle generazioni future nel senso che sempre meno ci sarà bisogno di produrre ma sempre crescentemente ci sarà bisogno di consumare qui e da notare se permettete adesso io non ho preparato niente no avevo una citazione dall'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde che trovo molto bello perché indica un'epoca specifica del del lavoro che è un'epoca relativamente recente siamo nell'ottocento ancora del novecento in cui davvero quella centralità del lavoro a cui si faceva riferimento era potentissima suona così c'è Lady Bracknell che chiede a Jack che poi vorrebbe sposarsi la figlia di Lady Bracknell che è ricca quindi lui ha già capito come si fanno i soldi senza aver letto lavorare non basta e gli chiede lei fuma chiede Lady Bracknell e lui imbarazzato veramente sì devo confessare che fumo Lady Bracknell mi fa piacere un uomo dovrebbe sempre avere un'occupazione sono già in troppi a Londra a non far niente io trovo bellissimo questo nel senso che il punto fondamentale è che persino la classe oziosa che ancora nel settecento avrebbe tratto il proprio titolo d'orgoglio del non lavorare invece adesso in età vittoriana deve sostenere che lavora come fuma un'occupazione come un'altra e eccetera mentre ovviamente poi essendo più pratici loro sanno che il vero modo per acquisire il denaro è fare un buon matrimonio che quello che sta cercando di fare Jack e penso che alla fine gli riesca malgrado fumi anzi proprio grazie al fatto che fumi allora quindi noi viviamo ancora all'interno di quell'orizzonte mentale quando la realtà sta cambiando secondo me questo è il vero è il vero messaggio che viene dal da questo da questo libro che vorrei dire filandropico c'è una forma di filandropia all'interno di questo libro perché in fondo si dice noi stiamo cancellando gli aspetti importanti dell'essere umano in nome di un ideale che si vuole reale e che non è reale perché è sostanzialmente in via di sparizione fra l'altro un possibile sottotitolo del libro potrebbe essere 1200 modi per restare poveri lavorando perché essenzialmente la lista mi fa vedere l'infallibilità del sistema che se solo ti metti a lavorare si spacciato diventerai povero mentre se riesci a restare ai margini di questo fenomeno hai qualche possibilità tutto questo può sembrare paradossale provocatori eccetera invece non è vero c'è una logica implacabile in tutto questo nel senso che il discorso del lavoro come elemento centrale introduce primo le disuguaglianze nel senso che sembra che siamo tutti quanti uguali sul lavoro ma in realtà è proprio il lavoro in quanto distributore di riconoscimenti e di meriti che genera disuguaglianze nel senso che appunto se tu hai una famiglia che ti aiuta sei infinitamente più avvantaggiato nel campo apparentemente neutro prima della scuola poi dell'università e alla fine del lavoro di uno invece che non c'è una famiglia che lo aiuta famiglia può andare benissimo anche una famiglia mafiosa per intenderci cioè il principio di funzionamento è sempre quello secondo elemento a legge in tutto il libro giustamente il sacrosanto sospetto nei confronti della tirannia del merito cioè questa faccenda per cui noi ci facciamo avanti nella vita grazie al nostro merito e non invece grazie al fatto di essere conti duchi o marchesi però per esempio noi non ci siamo scelti i nostri genitori non ci siamo scelti il posto in cui siamo vissuti sono pura casualità che però poi dopo ha determinato tutto il resto quindi pretendere che noi siamo quello che siamo e lo dobbiamo soltanto a noi è una forma di impudenza per inciso Michael Sandel che ha fatto queste analisi molto bello cita per esempio dei passi che io trovo veramente illuminanti da questo punto di vista dai presidenti americani e badate bene i presidenti americani democratici e i premier britannici e badate bene i premier britannici laboristi tutti a dire io sono qua perché sono bravo addirittura Obama a un certo punto ha detto l'America è un paese meraviglioso perché uno come me può diventare presidente e una come mia moglie può diventare mia moglie quindi una cosa fantastica è veramente il paradiso di tutte le opportunità mentre se voi guardate Carlo d'Inghilterra vi rendete conto che lui è perfettamente consapevole di essere lì soltanto perché figlio di sua madre e questo modera le pretese quella cerimonia così bella quando c'era già la mamma che stava male e lo vedi lì così e lì c'era la corona della regina la guardava così poco come me si vedeva che mentre appunto Boris Johnson o Blair oppure Obama o chi altri al suo posto sono lì convinti di essere arrivati proprio quasi per una elezione divina che è il loro merito proprio il principio del protestante in fondo dell'elezione divina questo qua sapeva benissimo che dipendeva da una mera circostanza anagrafica e biologica e non si dava tante arie e l'ultimo punto è l'aspetto veramente grave è che l'incertezza lavorativa provoca un'incertezza sui consumi e l'incertezza sui consumi è il vero problema nel senso che noi non dobbiamo più fidarci del lavoro dobbiamo puntare sull'incrementare il più possibile attraverso qualunque via i consumi che sono esattamente l'unica cosa che ci rende umani però l'altro io generazionalmente sono cresciuto con la critica del consumismo c'era tutta quella roba lì del consumismo poi addirittura anche la letteratura di consumo c'erano certe cose che erano di consumo e certe altre no ma erano secondo me vere e proprio stupidaggini moralistiche il consumo intanto è proprio dell'uomo nel senso che tra mangiare un panino e sentire una sinfonia è tutto consumo compreso comprare i libri della terza però uno potrebbe mica dirgli no va vile consumista vai a comprare un libro di Mondadori quindi c'è questo questo elemento allora come faccio e chiudo a essere così sconsideratamente ottimista ma perché in fondo la morale più negativa che l'autrice ci espone è più o meno la stessa conclusione che a livello economico traeva Piketty cioè alla fine è il patrimonio che vince l'eredità eccetera solo che per esempio Piketty scriveva pubblicava il capitale del ventunesimo secolo nel 2013 e allora perché è un fenomeno molto recente non poteva tirare conto dell'economia dei dati e invece l'economia dei dati che è cresciuta successivamente ha fatto arricchire un sacco di persone anche impoverire tanti altri comunque la cosa interessante è che introduce un nuovo patrimonio che non era calcolato né da Piketty né da altri economisti precedenti e neanche da quelli che avevano le piattaforme che si sono accorti che era un patrimonio soltanto strada facendo che ha la caratteristica di essere nuovo perché quello che viene registrato sono i comportamenti degli umani gli umani si sono comportati da che mondo è mondo solo che adesso essendo registrati diventano un patrimonio che prima non c'era rinnovabile perché se io chiedo a Google di darmi i dati cosa che gli è imposta la legislazione europea non è che Google resti senza dati semplicemente c'era lui e c'era io che posso usarlo per tutt'altri scopi ricco perché dà molte più informazioni di quanto non sia la finanza e soprattutto equo perché il consumo è la cosa che uniforma tutti gli esseri umani io non penso che Elon Musk possa consumare 5.000 volte più del suo vicino di casa più o meno consumerà sempre quello perché sono bisogni tra il fisiologico e il culturale allora se noi riusciamo e questo è il vero punto finora questo valore è stato intercettato in due modi o in una maniera totalmente privatistica ed è quella delle piattaforme americane oppure è stato ridistribuito come avviene nelle piattaforme cinesi però visto che le piattaforme sono di proprietà dello Stato lo Stato esercita un controllo assoluto che nessuno di noi sopporterebbe ma visto che come accennavo come cittadini europei abbiamo il diritto di chiedere i nostri dati si possono poi dare questi dati che da soli valgono molto pochi li puoi mettere insieme in cooperative ASL, banche eccetera che vengano capitalizzati e una volta che sono capitalizzati sono ridistribuiti ma appunto perché anche l'altra critica che io farei è questo il fatto che alla fine l'intervento salvifico deve dipendere dallo Stato se uno deve aspettare lo Stato non so io aspetterei piuttosto sempre un po' come aspettavano e io arrivo Brücher perché poi lo Stato è qualcosa che cambia continuamente e soprattutto lo Stato è disposto a fare del welfare solo quando è minacciato dal comunismo quando il comunismo è sconfitto a questo punto di colpo si scopre che i soldi per il welfare non ci sono più e quindi le tasse sulla proprietà sono la metà che le tasse sul lavoro eccetera 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 bisogna prendere da tutta un'altra parte Ecco, prima di passare la parola a Giorgio Airaudo volevo fare una domanda con un parallelismo nel testo c'è scritto che una delle misure del successo delle persone è il reddito e adesso noi vediamo nelle imprese che il reddito diventa una delle misure non la più importante ma l'impatto sociale l'impatto ambientale cioè tutta una dimensione molto più completa di impatto e redistribuzione se vogliamo allora come poter pensare anche siccome il tema è sulla bocca di tutti come pensare anche che la remunerazione diciamo non sia soltanto economica ma sia anche sociale e questo rappresenti poi un valore per cui vedo quella persona una persona di successo non perché ha il macchinone ma perché ha fatto delle cose buone abbiamo degli esempi nella storia industriale di successo che non dimostravano il loro successo non in base all'ostentazione della ricchezza ma in base a quello che non come la vedi rispondo su questo punto sugli altri magari rispondo dopo sollevati precedentemente su questo in realtà il reddito rimane ancora secondo me l'indicatore principale di benessere di opportunità di vita delle persone non è purtroppo la rilevanza sociale del lavoro e questo l'ha messo chiaramente in evidenza la pandemia cioè quanti facevano dei lavori che avevano dei nomi molto sexy e che durante la pandemia di cui durante la pandemia non abbiamo avuto alcun bisogno qual è uno dei mestieri più importanti il netturbino il netturbino uno dei mestieri più importanti perché se non ci fosse la raccolta dei rifiuti ci ammaleremmo tutti ma in poco tempo e ci sarebbe una nuova come dire ondata di mortalità molto grave i lavori fondamentali sono quelli che ci forniscono dei servizi essenziali la sanità l'abbiamo visto la cura ma anche l'erogazione dell'energia elettrica sono spesso lavori poco pagati che non sono prestigiosi e di cui il reddito è l'indicatore principale sull'importanza di e qui mi aggancio anche un po' alla parte dei consumi perché secondo me hanno queste due valenze il lavoro e poi anche i consumi eventualmente poi torniamo dopo l'importanza del lavoro dal punto di vista simbolico quindi non solo dal punto di vista materiale della capacità di generare reddito è importante e interessante nella misura in cui ha un valore simbolico di status così come i consumi perché quando prima appunto si diceva Elon Musk non può consumare così tanto non dal punto di vista strumentale ma dal punto di vista simbolico forse sì quanto mi costa affittare o avere un mega yacht che attraversa l'Atlantico in termini economici quindi dal punto di vista strumentale del reddito quindi il lavoro come capacità di generare reddito è certamente contenuto dal punto di vista invece di status e lo status non è solo la mia identità ma nell'ambito della disuguaglianza lo status è anche relazioni di potere e riconoscere alcune persone simili a me essere in grado di interloquire essere in grado di portare avanti al dibattito pubblico magari all'agenda politica pubblica chissà magari che lo Stato come dire non intervenga in qualche modo dei temi che sono per me importanti è chiaro che se questa capacità è appannaggio delle persone con più risorse se ad esempio non so degli imprenditori possiedono dei quotidiani che potere possono avere come dire orientare l'informazione e questo è come dire molto legato sia alla capacità di reddito ma anche evidentemente alla capacità di potere una piccola precisazione da parte si rubo rapidamente a proposito di Elon Musk si ma i dati che Elon Musk produce sul suo yacht valgono tanto quanto quelli che un mendicante produce che hanno il telefonino produce davanti a un supermercato questo ovviamente poi quello si può comprare 900 case come uno qua che gli ha le bombate che non gli ha le bombate si possono fare queste cose ma non era questo che allora Giorgio Airaudo vedevo che annuivi molto nella nella presentazione e nelle risposte dell'autrice e la felicità in tutto questo discorso come come si sta beh la felicità è una risorsa rara in questo momento per chi lavora perché mentre aspettiamo il magnifico mondo dei dati su cui ci invita a riflettere il filosofo ci sono quei 200 anni da attraversare che vuol dire che alcuni di noi non arriveranno lì e come vivono in questo momento è una cosa molto concreta e materiale e i dati del libro di Marianna visto che ci conosciamo e sono molto importanti perché fotografano in modo attuale un tema che dovrebbe essere prioritario in questa città perché questa è una delle città e non è la sua storia dove le diseguaglianze sono tra le più alte in questo momento in Italia il Piemonte è la prima regione del sud non so se ce l'avete mai pensato abbiamo un tasso di abbandono scolastico che è uguale a quello della Calabria così discutiamo cominciamo a discutere di cose e abbiamo è cresciuto il lavoro povero quello di cui parla Marianna il lavoro poco retribuito abbiamo un aumento il comune di Torino il comune di Torino ha più del 30% di mano d'opera che è precaria è instabile eppure la nostra immagine è che i denti pubblici sono stabili sapete chi sono questo 30% sono all'80% donne e prevalentemente giovani donne sotto i 30 anni quindi molti dati che tu descrivi in modo ampio quindi la diseguaglianza è concreta questa che era la città del lavoro la città della morale del lavoro è invece una città che oggi produce diseguaglianze c'è voluto il precedente vescovo di Torino per dire che c'erano due Torino in verità ce n'è molto più di due o se volete parlare delle regioni abbiamo diversi Piemonti se voi staccaste il Cuneese dal resto della regione ha un tasso di crescita e redditi superiori al Veneto peccato che Torino e la sua provincia lo precipite al sud il Piemonte perché Torino è il problema è l'area è l'ex area forte del lavoro allora i dati di Marianna sono molto importanti del tuo libro lavorare non basta perché in quel non basta io non riesco a vedere io faccio sindacalista non so se lo sapevate l'avete capito quindi tento di occuparmi di quelli che il lavoro rischiano di perdere non lo raggiungono io non trovo molti dei lavoratori di cui parla Marianna delle lavoratrici stamattina ero a fare una chiacchiera con il nuovo vescovo di Torino e sapete qual è l'organizzazione che incontra i lavori i lavoratori di cui parla Marianna nella nostra città è la Caritas se voi andate ai sportelli della Caliza di Torino trovate quelli i working poor i lavoratori poveri quelli che guadagnano i 3 i 4 i 5 euro perché quelli non sono neanche in grado di organizzarsi e questo è il mio problema il mio limite come rappresentante di un'organizzazione sindacale che io rappresento lavoratori forti relativamente forti perché nell'appiattimento dei salari nei non aumenti dei salari nel reddito anche il lavoro forte è arretrato pesantemente lo dicono da alcuni decenni tutti i dati lo ricordi tu in diversi passaggi del libro quindi c'è un problema di politiche di politiche qui e ora e di politiche molto dure perché una delle ricette principali che tu proponi nel tuo libro è quello come si dice di fare la redistribuzione che è una bellissima parola ma la redistribuzione vuol dire che chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve in vari modi ricevere vari modi dall'accesso scolastico al sostegno per non parlare della sanità pubblica se volete i nostri quotidiani torinesi hanno come si dice sono settimane che ci propongono pagine e anche quello è un effetto della diseguaglianza andate in un pronto soccorso a vedere cos'è la diseguaglianza si vede si vede fisicamente chi c'è passato per vicende personale o accompagnato un familiare l'ha vista l'ha toccata con mano e noi quindi abbiamo bisogno come si dice dei dati del tuo libro Marianna perché abbiamo bisogno di provare a costruire delle politiche e anche a costruire la cosa ho finito di cui si parla molto poco ma che purtroppo prevede una forma ovviamente democratica ma di conflitto che è un rapporto di forza il lavoro è diventato invisibile nella sua svalutazione i lavoratori sono diventati merce sono più importanti le merce delle persone che le producono le merci devono correre e i lavoratori dietro le merci tutto si può fare per le merci ma cosa si fa per i lavoratori che le producono che le trasformano che aggiungono ad ogni livello degli elementi di ricchezza che aggiungono valori in quella catena del valore anche lì c'è un problema di redistribuzione c'è un problema di poteri c'è un problema di politica tutti rifugiamo dalla politica prevalentemente gli italiani visto il dato dell'astensione però alcuni di questi problemi o si risolvono a livello della politica o cambiano le politiche o difficilmente si affronta la diseguaglianza ci sono dei tentativi non è che non ci sono dei tentativi in giro per il mondo io per esempio trovo di grande interesse un tema che sembra lontano ma c'entra molto secondo me che è quello di immaginare di ridurre la settimana di lavoro a quattro giorni a parità di salario è un modo per redistribuire lo stanno provando in alcune aziende in Inghilterra nell'Inghilterra dopo Brexit ci stanno pensando alcuni stati la Germania e la Francia noi no onestamente noi no non è un tema all'ordine del giorno si può redistribuire e si possono aumentare pure i consumi oggi sull'avvenire Ricciardi della comunità di Sant'Egidio quindi non un pericoloso eversivo estremista si domanda sui rischi e le possibilità di portare l'orario è l'editoriale principale dell'avvenire oggi e di portare l'orario di lavoro a quattro giorni alla settimana come si fa in modo che si lavori quattro giorni e che il quinto non si faccia il lavoro nero per esempio no per dire perché c'è quel problema come utilizzi il tempo sono molte cose che tu nel tuo libro citi gli dai dati gli dai corpo gli dai esempi perché la cosa carina del libro è che ci sono molti esempi è molto diciamo è molto divulgativo e noi abbiamo bisogno di divulgazione quindi secondo me è una base di lavoro per me molto importante è molto importante e vi invito a leggerlo non solo perché l'editore ovviamente è contento se vuoi comprare il libro e Marianna è contenta perché le sue idee come si dice possono essere discusse ma perché ci consente di guardare la realtà per quello che è cioè io ho la sensazione che noi dobbiamo fermarci sul presente se vogliamo cambiare il futuro ma fermarci sul presente corriamo troppo veloci in alcuni casi e non e non corriamo tutti e molti di noi restano indietro e soli perché l'altra condizione della diseguaglianza è la solitudine c'è un'enorme solitudine e anche un po' di paura io ne incontro moltissimo nel mondo del lavoro paura paura di perdere quel poco è molto forte Mariana come dare seguito un po' agli interventi che cosa tu hai parlato di diseguaglianza nel tuo libro e questo è un elemento importante quindi una logica di redistribuzione di ascensore sociale probabilmente anche e quali possono essere delle ricette appunto cogliendo gli stimoli che sono stati dati allora l'idea è appunto quella di intervenire sulla diseguaglianza la diseguaglianza è molto forte e visto che abbiamo prima parlato di reddito e ricchezza la diseguaglianza più forte è quella della ricchezza tanto per darvi un'idea noi misuriamo la diseguaglianza con un indice si chiama indice di Gini va da 0 a 1 1 vuol dire che una sola persona ha tutto e 0 che tutti hanno la stessa quantità di denari l'indice di Gini sul reddito è 0,3 all'incirca in Italia cambia un po' i paesi molto molto diseguali hanno 0,4 i paesi dove la diseguaglianza è molto molto bassa hanno 0,2 0,25 quindi noi abbiamo 0,3 sul reddito sulla ricchezza abbiamo 0,6 cioè abbiamo più del doppio quindi abbiamo molta più diseguaglianza di ricchezza di nuovo perché parliamo di reddito ricchezza quando parliamo di lavoro sul reddito evidente forse sulla ricchezza meno perché il lavoro come attività che io faccio legittima la mia condizione e le diseguaglianze hanno bisogno di essere legittimate se io sono un lavoratore povero alla fine me lo posso pure chiedere ma sarà colpa mia non mi sono dato abbastanza da fare non ho studiato tanto quando stavo all'università c'erano dei professori che magari parlavano troppo non ero troppo attento un po' è colpa mia il lavoro vabbè fossi stato più sveglio avessi studiato di più mi fossi venduto meglio in quel colloquio avessi mandato un curriculum in più insomma non saremmo qui quindi alla fine il fatto che il mio coetaneo guadagni 30 volte più di me è frutto della sua capacità del suo impegno del suo talento ma sulla ricchezza è molto complicato da sostenere perché perché se io eredito eredito che merito ho nell'eredità che merito voi sapete che in Italia la tassazione sull'eredità e le donazioni praticamente non esiste è solo sopra il milione di euro e sopra il milione di euro è comunque una percentuale molto bassa del 4% quindi anche grandi lasciti vengono tassati pochissimo ora è chiaro che chi ha dei figli e ha risparmiato qualcosa vuole lasciargli quello che ha risparmiato ci tiene ma poniamoci dall'altro punto di vista ma io che sono nato in una famiglia dove non eredito niente posso accettare serenamente che il mio coetaneo sia nato in una famiglia dove erediterà 3-4 milioni di euro mettiamo un tetto più basso al milione di euro o mettiamo un tetto o tassiamo tutte le eredità perché la redistribuzione di cui stiamo parlando è questa è una redistribuzione che parte dai patrimoni dal fatto che da una generazione all'altra le disuguaglianze si amplino quindi oggi abbiamo un sistema che non solo le riproduce ma le amplia quindi la disuguaglianza sta aumentando ma non lo dico in termini apocalittici ah corriamo i ripari la disuguaglianza aumenta no lo dico in termini statistici i dati ci dicono che il livello di disuguaglianza sta aumentando la pandemia ha contribuito molto a fare questo e di nuovo è un problema perché non sono legittimate le disuguaglianze sì ma è anche un problema perché tutti viviamo in una società più infelice una società dove c'è meno fiducia tra le persone dove c'è meno fiducia con le istituzioni i dati su le elezioni su l'assenzionismo ce lo dicono chiaramente le persone non hanno fiducia nelle istituzioni non hanno fiducia tra i loro simili e questo ci fa vivere in società dove ci sono più problemi sociali dove si vive peggio dove c'è un livello di diffidenza molto più diffuso quindi l'idea di ridistribuire è proprio quella di contenere la disuguaglianza per dare anche più opportunità a tutti per legittimare maggiormente le disuguaglianze che siano davvero se poi possono essere tali ma questo è un altro dibattito non ne entrai stasera frutto di un certo impegno di un certo sforzo quindi questa è la prima cosa la seconda cosa ha a che fare con l'idea del lavoro e soprattutto dei lavoratori come merce chi sono i lavoratori più esposti al lavoro povero ma anche alla precarietà ai bassi salari alla discontinuità sono i lavoratori poco qualificati sono i lavoratori che possono facilmente essere sostituiti chi è che sostituisce i lavoratori poco qualificati le imprese che risparmiano sul costo del lavoro non so dicendo che tutti gli imprenditori lo fanno e anzi molte piccole e medie imprese che investono su lavoratori magari con un apprendistato avrebbero dei costi altissimi a cambiare la forza lavoro sto dicendo che però questa pratica cede diffusa nel nostro paese per cui alcune imprese rimangono competitive nel mercato del lavoro non investendo in innovazione e sviluppo ma riducendo il costo della forza lavoro e questo ce lo dicono molti dati questo ha un problema molto rilevante e l'intervento che possiamo proporre è quello di un irrigidimento del mercato del lavoro come sta avvenendo in altri paesi europei come ad esempio la Spagna un irrigidimento del mercato del lavoro che non ci consente di cambiare continuamente questa forza di lavoro poco qualificata di nuovo i costi non sono solo per il singolo che poi si ammala e poi quindi si rivolge al servizio sanitario nazionale da un costo per tutti che poi è infelice di nuovo un costo per tutti ma pensate a due elementi che sono sulle spalle di tutti la gestione dei sussidi di disoccupazione chi paga sussidi di disoccupazione parte il lavoratore perché è assicurativo ma non copre tutti i costi del turnover quindi buona parte sono risorse pubbliche che noi utilizziamo per pagare i periodi di disoccupazione che si alternano a quelli di occupazione la seconda cosa gli infortuni sul lavoro il cambiare spesso da attore di lavoro fa sì che si conosca meno meglio il luogo di lavoro e si sia più soggetti a infortuni l'infortunio sul lavoro è un costo elevatissimo per tutti quindi secondo me tra le cose plausibili e neanche come dire inarrivabili ci sono queste due la ridistribuzione è una delle cose per le quali ci vuole meno innovazione non c'è nulla di più facile che trasferire i denari sono fatti apposta per essere trasferiti da una parte all'altra non serve nessuna innovazione tecnologica serve una volontà politica evidentemente l'irrigidimento dei contratti nel mercato del lavoro di nuovo non ha bisogno di grande innovazione ha bisogno di fare non solo un arresto ma addirittura un'inversione di tendenza a quelle che sono state le politiche degli ultimi decenni in Italia che però abbiamo visto essere particolarmente fellimentari per quanto riguarda sia l'occupazione sia il benessere delle persone una domanda provocatoria perché tu hai parlato di imposte di successione ma noi sappiamo bene che chi ha grandi patrimoni si protegge con dei trust degli strumenti mentre chi ha patrimonio del basso sta sotto la franchiscia di un milione di euro e chi verrebbe colpito la classe media che è quella che si sta polarizzando e questo come potrebbe essere risolto come problema ecco su questo mi sento dire che la classe media non è colpita oggi da nessuna tassazione perché perché un milione di euro come franchigia non è su il valore dell'eredità ma sul valore dell'eredità ricevuta da singolo quindi se siamo tre fratelli i miei genitori ci lasciano tre milioni di euro non paghiamo niente quindi parliamo di lasciti di tre milioni di euro che sono assolutamente esentasse se sono ricevuti da tre persone quindi in realtà la classe media che pensiamo il figlio che è eredita dei genitori la casa di proprietà che ha comprato che i genitori hanno comprato con un mutuo frutto di risparmi eccetera non è toccata da questo quali sono invece i patrimoni che sono toccati quelli grandissimi sono d'accordo come dire un altro capitolo ma quelli delle seconde delle terze case quelli dei grandi fondi che vengono dei fondi comunque rilevanti che vengono messi da parte chi ha una seconda casa in una località turistica potrebbe pagare qualcosa certo ma non stiamo però attaccando la classe media molte volte le politiche di risistribuzione vengono quindi questa è una domanda assolutamente cruciale vengono steggiate con l'idea del povero ceto medio no il ceto medio non ha la seconda e la terza casa che affitta e ha bisogno dell'accedolare secca il ceto medio non fa l'accedolare secca sulla seconda casa che magari ha in campagna chi ha la seconda e la terza casa che affitta nelle città che affitta nelle località turistiche è un ceto medio alto che quindi ha la capacità di contribuire al gettito pubblico una questione rispetto alla ridistribuzione perché noi adesso abbiamo il governo più di destra della storia repubblicana se insistiamo sulla ridistribuzione avremo un governo ancora più fascista e poi ancora più fascista e poi ancora più fascista non credo che sia la via da perseguire e per questo la mia preoccupazione è che con questo se vuoi avere alla fine un incrocio tra Pinochet e Hitler basta andare avanti sul tasto della ridistribuzione e sei sicuro che voteranno Pinochet e Hitler la mia idea invece che invece che ridistribuire i valori già esistenti bisogna attingere a un capitale che non c'era prima ma che adesso c'è non è un'utopia perché la Cina ha sconfitto la povertà grazie a questo nuovo capitale mica nient'altro solo che poi ha trasformato tutto quanto in un lager generale perché una volta che conosci il minimo dettaglio dei tuoi cittadini questi qua sono semplicemente degli automi al tuo servizio però vuol dire che questo capitale esiste e non è che sono andati a prenderlo come facevano con la rivoluzione culturale o simile a togliere i soldi o a licenziare i culachi o altre cose queste cose non portano mai a niente nel senso che intanto devi convincere il culaco a darti questa roba se il culaco non ci sta lo ammazzi e a quel punto inizia una serie di cose se invece scopri che partiamo da questo ragionamento allora uno fondamento filosofico imprescindibile la natura è ingiusta perché gli esseri umani nascono belli brutti stupidi tantissimi intelligenti pochi con le più varie qualità a questa ingiustizia però non puoi accusare la natura di ingiustizia la natura è strana a questa nozione di giustizia di ingiustizia la società cerca di porre rimedio però è proprio cercando di porre rimedio che la società crei i pasticci perché ovviamente a questo punto si creeranno delle differenze e queste differenze saranno però volute dalla società invece che dalla natura quindi già già il fatto che appunto questo qui nasce con quei soldi quell'altro quell'altro no e quindi se ti basi sul merito è sempre un indicatore ambiguo nel senso che il merito è qualcosa che appunto è un misto tra fortuna fortuna anche in senso finanziario del termine circostanze favorevoli e altre cose bisogna proprio capovolgere radicalmente la prospettiva quello che deve essere valorizzato nell'umano non è la capacità perché gli umani sono in gran parte incapaci ma il bisogno siamo fantastici ad aver bisogno non ci batte nessuno nell'aver bisogno i castori ci lasciamo dietro hanno molto meno bisogno castoro che vuole vedere chip and chop alla tv figuriamoci noi invece vogliamo tutto questo quindi puntiamo sui bisogni i bisogni sono il grande livellatore cioè sono il grande elemento di unificazione tra gli umani e quello che era una semplice utopia prima diventa realtà io capisco che Giorgio Ieraudi dice qui il filosofo ci parla di cose che verranno tra milioni di anni intanto sono già presenti adesso perché se tu vai in Cina in stazione c'è un tizio con i bank noi abbiamo ti danno il solito biglietto con codice a barre eccetera noi cosa facciamo lo mettiamo su una macchina in Cina c'è un signore con i guanti bianchi e l'uniforme che ti prende questo biglietto lo passa sulla cosa e poi te lo ridà questo è pagato ovviamente il suo lavoro è totalmente inutile ma è pagato perché ne hanno le risorse e le risorse le traggono proprio da quel nuovo da quel nuovo capitale da noi questo questo non c'è ma noi possiamo farlo ugualmente è lì che dobbiamo intervenire e fra l'altro qui a Torino proprio effettivamente sì Torino è un bel buco ma per dire c'è stiamo facendo con un centro di ricerca che abbiamo fatto tra l'università e il Politecnico una cosa già in atto c'è una banca che chiede ai propri correntisti mi dai l'accesso ai tuoi dati social io incrocio i tuoi dati social che sono disordinati come quelli delle grandi piattaforme con i dati che io ho e sono ordinati insieme produco valore metto sul mercato faccio anche una borsa dei dati e a questo punto si potranno tassare il giusto le piattaforme al momento non si può perché il valore dei dati risulta da contrattazioni private si parlava della sanità ovvio la sanità non è mai stata così in linea di principio efficiente ma di fatto così discriminante nel senso che costa tantissimo con cosa lo paghi di nuovo la ASL ha un patrimonio gigantesco di dati strutturati potrebbe connettere questi dati strutturati con i dati social e scopri che a leggere certi libri ti viene la gotta per esempio non questo ma certi altri a questo punto hai un valore enorme che vai a vendere a Big Pharma e hai il welfare sanitario però ce l'hai non attingendo delle risorse che non ci sono ma delle risorse che crei tu secondo me questo è il valore creare nuovo valore e fare questo valore non sulla produzione che è discriminante perché si discriminano gli incapaci ma sul bisogno battito col filosofo no guardate io ovviamente sono affascinato ovviamente se si parla della Cina o se si parla dell'utilizzo dei dati io penso che ci sia un problema intanto democratico enorme tant'è che non è un caso che la Cina abbia avuto ma per questo che dicevo lo facciano nel suo settore non lo Stato sì l'ho capito però lo deve decidere politicamente non lo decidono né Pinochet né Hitler anche perché che la redistribuzione porti all'estrema destra è ampiamente confutabile Pedro Sanchez non è di estrema destra e oggi in Europa il governo che ha fatto più politiche redistributive anche sul lavoro è quello spagnolo è chiaro e Pedro Sanchez non è a destra e non vicerà l'omologa di io soy Giorgia per capirci in Spagna neanche questa volta quindi non è così anzi io sostengo la tesi opposta che aver impoverito il lavoro aver ceduto al liberalismo più sfrenato facendo noi il campione del liberalismo senza averne i fondamentali in questo paese ha aperto le porte alla destra patriotista nazionalista questo è esattamente il contrario io penso che è esattamente quella solitudine quella frammentazione l'aumento delle diseguaglianze che ti porta alla signora forte questo a parole perché poi vediamo che volete parlare di una vicenda torinese qualcuno di voi ha letto io sono Giorgia lo so che tu l'hai letto ti guardavo non a caso ci sono due pagine dove lei parla l'unica politica italiana del fatto che la Fiat alias Stellantis è francese non me ne voglia l'amico della stampa ma è francese perché la maggioranza ed è francese con la partecipazione dello Stato tant'è che il ministro Lemaire conta più di Durso sappiatelo conta assai più di Durso su quello che può succedere nei tre chilometri di Mirafiori qua a fianco e nei 70.000 lavoratori che lavorano ancora per l'autoveicolo in provincia di Torino nel 50% della componentistica italiana che sta in Piemonte che è gran parte della struttura manifatturiera sopravvissuta perché di questo stiamo parlando allora e in quel capitolo la signora dice che bisogna ritornare un'industria nazionale dell'automobile una settimana fa c'è stato l'incontro tra Durso e Stellantis e non mi sembra che sia stato chiesto qualcosa a Stellantis ma Stellantis ha chiesto ha chiesto gli incentivi per vendere le macchine elettriche cioè i soldi delle nostre tasse e Tavaresci oggi sui giornali a Didi Stellantis dice che l'auto elettrica il ceto medio non quelli di cui parli tu il ceto medio non se la compra se non gli diamo 10.000 euro di incentivo a vettura alla faccia del libero mercato e della redistribuzione per capirci quindi io sarei un pochino più sono molto affascinato io ci credo all'economia dei dati credo che lì ripeto il tema della democrazia di chi le organizza io ieri sera ero a cena con un con un tuo collega dell'università qua a Torino e parlavamo di vaccini sapete qual è il vaccino più performante contro il covid è quello cubano tecnicamente qualcuno avrà visto anche il servizio su report della tv di stato per farvi un esempio è quello cubano sapete quanto costa un euro avete idea quanto costa il vaccino di mRNA e Big Pharma che cosa ci ha fatto con tutti 80 euro e il vaccino cubano non si può produrre in Italia perché non ha superato i trial europei però sarebbe facilmente producibile facilmente estendibile e tradizionale e perché a Cuba hanno azzerato la curva con cui conviviamo noi conviviamo con una curva col covid perché non sparirà la curva sale e scende per capirci l'hanno azzerata perché hanno vaccinato i bambini perché hanno vaccinato i bambini perché i bambini si possono vaccinare col vaccino tradizionale a proposito dei dati ed è interessante perché hanno messo due società in competizione e sono in competizione in un modo curioso sono in competizione e quindi in termini di mercato ma sono in condivisione dei dati gareggiano perché arriva prima all'esito ma condividono i dati è una cosa un po' diversa è interessante quella è avvenuta lì non sono un amante del modello cubano credetemi lo cito perché mi ha molto incuriosito ieri sera ho passato una serata c'è qua un'amica con cui eravamo a fare questa discussione e ho appreso cose che non conoscevo tu sai di chi parlo credo per capirci ma detto questo cioè quindi i dati sono fondamentali ma c'è un problema di modello c'è un problema di democrazia c'è un problema di redistribuzione perché senza redistribuzione la democrazia esteridisce la partecipazione diminuisce queste cose non non sono antagoniste non so come dire non sono antagoniste hanno secondo me tempi diversi cioè c'è un qui e ora io penso che il libro della Marianna Filandri ci dice ed è un grido d'allarme dovete intervenire qui e ora e adesso che bisogna intervenire l'ultima cosa davvero la Spagna ha tre modalità di assunzioni ha costruito 700.000 posti di lavoro a tempo indeterminato voi sapete quanti ne abbiamo in Italia 46 la maggioranza di queste modalità di assunzione sono quelle come le contrade morte del palio di Siena non le usa nessuno non c'è una sola impresa che le usa però ne abbiamo 46 noi siamo un supermarket nel mercato del lavoro e qualcuno l'ha anche teorizzato e negli anni passati vai e prendi il contratto di assunzione che più ti serve staff leasing abbiamo pure sperimentato il lavoro gratuito gli stage quanti ragazzi entrano nel mondo del lavoro con gli stage che non c'è l'ha anche Grazie a tutti